Mentre alcune zone della città aspettano ancora di poter avere l'acqua nelle proprie case, continuano i lavori alla condotta idrica di Foggia dopo la rottura dei giorni scorsi. Uno squarcio vistoso dalla larghezza di circa un metro e mezzo e un'altezza di circa 50 centimetri che la sera del 18 giugno ha provocato la rottura della condotta di via Napoli lasciando a secco quasi tutta la città. Sul fatto indagano i carabinieri forestali intervenuti questa mattina sul posto atteso che l'acquedotto pugliesi ha presentato denuncia contro ignoti per il danneggiamento. La tubazione è risalente agli anni 80 con una portata di 600 litri al secondo e in cemento armato precompresso. Durante i rilievi presentava una visibile fuoriuscita dei ferri con un distacco del cemento copriferro degli stessi solo in corrispondenza dello squarcio. In corrispondenza della rottura dicono d'acquedotto di Puglia sono stati eseguiti lavori di sbancamento e successivo riempimento con materiale misto stabilizzato ovvero lavori puntuali di perforazione del terreno che hanno determinato uno schiacciamento della condotta con una successiva rottura della stessa. Intanto questa mattina dicevamo i carabinieri della forestale erano presenti sul luogo dei lavori per le verifiche utili alle indagini della procura di Foggia. Nel frattempo continuano ancora alcuni disagi in alcune zone della città come per esempio la zona di via San Severo che alla nostra redazione alcuni residenti hanno proprio lamentato la mancanza d'acqua. Un problema che si è verificato anche all'università di Foggia dove gli esami previsti per questi giorni sarebbero stati svolti nella gran parte in modalità online e non in presenza. Questa mattina intanto un nuovo vertice all'acquedotto di Puglia nella sede foggiana per tracciare la nuova situazione e nuovi interventi.